Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Club del Credito. Oggi nell'ambito della rubrica dei aiuti di Stato parleremo del nuovo regime d'aiuto introdotto a seguito della guerra fra l'Ucraina e la Russia. Con oggi di fatto completeremo nell'ambito di questa rubrica il panorama dei regolamenti comunitari che soggiacciono alla maggior parte di quelle che sono agevolazioni, incentivi e garanzie pubbliche. Abbiamo affrontato, vi ricordo, il tema del regime quadro temporaneo che è stato introdotto con la pandemia ma che di fatto per molte sezioni è terminato il 30 giugno del 2022. Abbiamo parlato di una poi nello specifico delle due sezioni principali della 3.1 e del 3.2 del regime quadro temporaneo. Abbiamo affrontato il regolamento comunitario riconducibile al regime dei minimis nonché al regime delle esenzioni. Quindi oggi completiamo la panoramica con questo regime che si auspica tutti quanti possa brevemente terminare, perché questo vorrà dire che sarà terminata anche la guerra che vede coinvolte la Russia e l'Ucraina stessa. Come sempre per farciò ci facciamo supportare dalle nostre slide che vi invito a scaricarle sul nostro canale youtube clubdelcreto.it. Potete altresì scaricare il palinsetto dove potete visualizzare quando verranno pubblicate tutte le date dei nostri video con le varie puntate. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato ci sarà ancora la puntata direi conclusiva quella relativa al registro nazionale degli aiuti di Stato. Ma veniamo a questo regime introdotto nel mese di marzo del 2022. Ecco questo regime come potete vedere nella slide numero 1 che è quella riassuntiva dopo gli altri tre regolamenti affrontati. Questo regime è stato poi introdotto il 24 marzo del 2022 come descritto nella slide numero 2 e ad oggi è valevole sino al 31 dicembre 2022. È stato istituito ovviamente per fronteggiare la crisi causata dalla guerra tra l'Ucraina e la Russia e prevede al momento quattro sezioni di intervento. Originariamente anche il regime quadro temporaneo aveva un numero di sezioni limitato, nell'ultima versione le sezioni di intervento in quel caso erano ben 14. Sinteticamente queste sezioni sono la sezione 2.1 che è quella diciamo delle sovvenzioni pubbliche dove vi sono dei massimali da rispettare. La sezione 2.2 è quella equipollente alla 3.2 del regime quadro temporaneo cioè alle garanzie che di fatto vengono concesse entro determinati perimetri e poi vi sono al momento altre due sezioni, quella riconducibile ai prestiti agevolati e all'aumento dei costi riconducibile alla crescita del prezzo del gas e dell'energia elettrica. Ovviamente questo regime non è ancora molto diffuso in uso, si spera che prima o poi a livello parlamentare possono essere promosse grazie anche a dei fondi del PNR misure che possano recepire questo tipo di agevolazione stessa. Al momento l'unica misura che è operativa, che è operativa dal 12 luglio, è quella gestita da Simons dove di fatto vengono concesse delle agevolazioni in termini sia di contributi a fondo perduti di finanziamenti di tasso agevolato per le imprese che hanno un'operatività media negli ultimi tre anni definitivi del 20% sui ricavi complessivi verso paesi come Ucraina, Russia e Bielorussia, cioè imprese che sono direttamente e indirettamente coinvolte nella guerra. Nella slide numero 4 vediamo quali sono i massimali, in questo caso sono ovviamente molto più contenuti rispetto alla sezione 3.1 del regime quadro temporaneo che è arrivata fino a un massimale di 2 milioni e 3, ovviamente anche in questo caso parliamo di massimali distinti tra attività se vogliamo agricole, prettamente agricole dove i massimali sono contenuti e i massimali ovviamente per la categoria di tutte le altre imprese. In questo ultimo caso si parla di un massimale di ben 400 mila euro. Nell'ultima slide vogliamo riportare le caratteristiche invece della sezione 2.2, quella di fatto delle garanzie pubbliche dove vengono definiti in modo più puntuali quelli che sono i perimetri dei prestiti per poter beneficiare di questa garanzia sulla base di questa regia. In particolare al punto 1 il prestito non può superare relativamente il limite del 15% dei ricavi medi degli ultimi tre anni o il 90% dei costi energetici. Io ho la possibilità di prendere in considerazione il massimo di uno di questi due importi. La durata del prestito è di 72 mesi o 6 anni così come originariamente era previsto anche per il regime quadro temporaneo nella sezione 3.2 poi questa durata è stata allungata fino ad arrivare a 8 anni. La percentuale di garanzia è in questo caso non può essere supera al 90% così come originariamente era previsto per il regime quadro temporaneo per questa garanzia e si è ridotta all'80% e ovviamente le finalità del prestito possono riguardare sia investimenti o capitale circolante. Direi che non c'è molto altro da dire anche perché questo regime probabilmente ripeto si spera a tutti quanti che possa durare il meno possibile. È un aiuto per alcune tipologie le imprese. Come vi ho accennato in precedenza di fatto non vi sono ancora al momento molti bandi che ricalcano questa misura stessa. L'unico bando attualmente operativo è quello riguardante una misura gestita da Simest. Si prevede a breve che anche Indie Italia possa in qualche modo far partire un bando non solo per le imprese che operano attivamente ma anche passivamente cioè si approvvigionano in questi stati ed è molto probabilmente questo bando sarà regolamentato da questo regime di aiuto. Poi credo che anche il fondo di garanzia a breve modificherà l'allegato 4 cioè il modello che viene utilizzato per l'accesso alla garanzia pubblica dove verrà data la possibilità di attivare questo stesso regime. Non mi resta quindi che salutarvi ricordarvi che se avete bisogno di supporto aiuto potete liberamente scriverci alla nostra mail info chiocciola club del credo punto it e rimanete sintonizzati per visualizzare tutte le nostre altre puntate delle nostre rubriche. Un saluto e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.